ciao a tutti un bacio a tutti e vi volevo dire una cosa mi si è anche rotto il il trespolo con cui facevi video quindi sono tornata a quello piccolino ora adesso ne dovrò prendere uno più grande perché questo qui è quello che presi da alie espresse non funziona un pippo allora è piccolo è basso quindi ho dovuto mettere il trespolo sopra una scatola sono andata indietro sono tornata indietro comunque vabbè questo video collaborazione con la mia amica maria sotto nell'info box e metto il link al suo canale e metto il video praticamente gemello al mio questo è una collaborazione che noi decidiamo mensilmente e che ogni mese cambia e varia completamente di tema o ragazza che mi vuole salire sul tavolo rose allora che vedevo da dire no il tema di questo mese anche questa volta come nel mese precedente che era blu questa volta è glitter e mi è andato benissimo perché comunque poi riesco sempre a resciammela un pochettino su una volta pastrocchio una volta sì una volta no e via prima di farvi vedere le cose con i glitter o comunque le cose che mi accompagnano con i glitter volevo dire è successo questo avevo girato una parte di video e doveva essere attaccata a questa però io adesso sto girando di sera quell'altro pezzo lo vedete di giorno cioè un pezzo l'ho girato ieri e un pezzo lo sto già capito quando metto insieme vedete un pezzo che non c'entra niente col video di stasera perché c'è sta le ombre c'è sta qui ma non doveva succedere ma siccome sono rimasta indietro con i video ovvi motivi logistici e adesso mi sentreccia tutto però comunque il video è sempre uno vabbè dicere che non c'è interessa niente basta che ci fai vedere qualcosa vabbè allora il glitter il glitter e vedevo di una cosa come sempre tanto devo sempre far fuia qualcosa io non non mi piacevano il glitter tutto sto sbillucci a me non piaceva non mi è mai piaciuto ecco questo lo posso di spero che non me linciate non mi è mai piaciuto non mi è mai piaciuto fino a quando non mi sono trovata in mezzo catapultata in questo mondo in cui anche lo sbillucci che io diventa che carino quindi mi sono avvicinata allo sbillucci che io tanto che lo porto pure sulle unghie proprio e quindi questa volta o io me le vado a tagliare settimana prossima cioè corte come una sallazzara perché così non c'è non ce la faccia prende le cose le prendo mi cadono dalle mani cioè non riesco manco a prendere gli spiccioletti io mi gratto non sento niente perché tutte unghie finte non se mi sto grattando cosa sto facendo ce capisco niente quindi bellissime stupende però questa è la prima e l'ultima volta che mi vedrete con unghie così lunghe sono troppo lunghe sembro una tigrotta un grizzly sembro quindi non vabbè allora incominciamo a farvi vedere la prima cosa glitter che io ho fatto e per quanto possa sembrare è proprio la prima cosa glitterosa che ho fatto è proprio questo diario midori così improvvisato che ho fatto e che mi sono divertita proprio a farlo perché è veramente veramente non ho usato niente ancora io le faccio le cose poi le lascio là questo è stato un esperimento avevo fatto una taschina qui poi ho capito che non è pratica e poi ho fatto una taschina qui ma poi ho capito che non era pratica quindi è rimasto così fermo avevo ricoperto semplicemente dei quaderni ma niente di che è giusto per però l'idea della copertina cioè praticamente mi sono innamorata del fuori dopo quando sono andata a fare il dentro è stato un po un casotto però ho capito questo è ed è veramente molto molto carino con l'unicorno poi ci ho attaccato qua queste di tiger e questo l'avevo preso da pinterest un'altra cosa glitter che comunque nel tempo ho incominciato ad apprezzare sono le midorine queste qui piccoline queste proprio non è glitter qualcosa di più e questa l'ho fatta io proprio per questo diciamo per questo video l'ho fatta proprio tema pink e allora io dice erica che misura è allora vi spiego subito era un foglio grande che ho ritagliato e ritagliato quindi di una metà è diventata un'altra metà quindi è proprio piccolina e io mi sono fatta questo proteggi pagina mi sono fatta il pen loop carini pen loop sono troppo comodi guarda veramente e poi niente il quadernino che non ho nemmeno cucito le pagine l'ho messe dentro così fascicoletto ma era giusto per farvi vedere che comunque con niente uno si può fare un quadernino fatto da sola a me invece ha voluto adesso non è che voglio fare la faiga però un venti minuti l'ho fatto il tempo di prendere due misure per la carta e poi l'ho fatto e insomma è veramente comodo perché così mi ritrovo il glitter è carino che vi posso dire a me piacciono un'altra cosa glitter che ho scoperto essere stupendo sono questi glitter body ingrandisce eccolo qui body glitter eccoli qua ritorno indietro ma cosa ne so adesso io non ce ne capisco niente quell'altro era molto meglio allora che cos'è questa è stata una cosa che è stata regalata a giulia sono tutti glitter rainbow vedete non è non è lo smalto è però questo qui ha tipo un come fosse burro cacao e quando tu trovi a passare sulla pelle diventi tutta glitter dici erica cosa hai fatto cosa hai combinato sì praticamente tu dopo fai così ti impastrocchi tutta e diventi che diventi un extraterrestre probabilmente però è veramente carino ecco poi lascia glitter un po dappertutto cioè questo è veramente carino sono i gatti che si stanno ammazzando ma tutti a posto oggi lo abbiamo fatto abbiamo sverminati è stato proprio una corsa gli armamenti per mettergli la medicina in bocca e quindi vedete e sembra una pazza perché adesso io devo pulire tutto il tavolo che è pieno di glitter e io devo andare a letto e sembra una matta e dopo pagliela di a michele che non ho fatto niente perché michele fa la notte e questo è un macello vedete quanto è carino questo quasi mette sul corpo si mette sul collo si mette ed è bellissimo di sera se non extraterrestre però questa è una cosa che a me piace non sapevo manco dell'esistenza quindi sta cosa mi è piaciuta un'altra cosa che proprio mai aver immaginato di comprare glitter è questa cornicetta che io passo voi mi dovete credere quando c'è stato quella situazione lì del video eccetera eccetera io per calmare i bollenti spiriti perché comunque c'ero rimasta male ma lascia il tempo che trova non è che sono stata lì a oddio a strapparmi i capelli no 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 mi si è voluto fare un dispetto vabbè contenti voi contenti tutti e mi sono messa qui e praticamente questa cosa mi ha rilassata è che vedevo di questa qua quei glitter del tiger guardate che beva è stupendo vabbè scusate io e che poi ho capito come si fa adesso mi la faccio aprirla un'altra volta no ve lo voglio far vedere perché è veramente una cosa carina adesso dobbiamo vedete deve ammazzo dobbiamo scattarci una foto oh mamma mia erica sei un caterpillar sei sei un caterpillar allora praticamente è così vedete poi questo va dietro ci si mette la foto se ce la vuoi mettere io noi ce la mettiamo per ricordare l'estate 2018 scatteremo una bella foto poi lo mettiamo qui e poi cosa è successo a niente poi praticamente summer bellissima la foto è stima io devo pulire tutto qui cioè voi non potete capire che cosa è diventato qua sopra no anche adesso che devo far vedere un'altra cosa glitter ho fatto un pastrocchio un'altra cosa glitter che a me però queste sempre piaciute sono le penne gel con i glitter allora questo nello specifico è un astuccio meraviglioso con penne meravigliose che mi hanno regalato maurie moni del canale maurie moni maurice monica guardate quante penne queste sono uno spettacolo fatevi mettere sto trespoletto mamma mia ma era proprio una cosa assurda allora queste qui praticamente sono tutte penne alcune con i glitter allora io ne prendo una e vi faccio vedere l'effetto che fa e sono mamma mia quanto sbrino cioè voi non vi rendete conto praticamente quando si va a adesso che ha fatto non scrive più questa ecco perché queste sono a gel e ci hanno le glitter dentro vedete com'è c'è questo su un quaderno è veramente la fine del mondo quindi queste mi piacciono le uso non le uso tutte ma quando devo scrivere a notare tutto io mi apro il bell'astuccio e tutte le mie penne glitter le utilizzo tutte il dietro le quinte carica batterie o brobrioso cioè il video è bellissimo per quanto riguarda l'idea io sono riuscita a renderlo una schifezza allora dopo questo pezzettino c'è il pezzo in cui io vi farò vedere un'altra cosa con i glitter che mi piace tantissimo e lo dovrei attaccare a questo video dopo e dirvi adesso c'è anche questa parte io vi saluto e vi faccio vedere quell'altro pezzo così proprio un video fatto così stasera accettatemi per quella che so ecco un casotto un casotto vi mando un bacio andate a vedere se vi va il video di maria ha fatto delle cose veramente veramente troppo belle io io niente ho fatto macella io ho fatto macella a partita l'inquadratura guarda che mani qua ho fatto un tastrocchio fatto comunque il pensiero c'è ve voglio bene ciao a tutti e vediamo i miei glitter ho fatto questa ripresa così vicino guardate che belli sono meravigliosi glitter sono glitter andiamo a vedere cosa ho fatto questi sono i nuovi stampi che avevo preso da alie espresse ne ho altri però questi erano quelli diciamo che mi piacevano un attimino di più perché quell'altra era un ovale un rotondo li ho anche negli altri stampi ad eccezione di questo perché era una rimanenza e quindi ho fatto così allora andiamo a scoperchiare tutto quanto il glitter allora vabbè questa l'ho fatta proprio verde così perché mi piaceva e credo che sia uno stampo che a me andrà avanti parecchio perché a me piace moltissimo guardate che bello è uscito proprio una meraviglia proprio stupendo c'è da mettere solo il gancio le proporzioni sono perfette guardate il glitter ma bellissimo che se sono stupendi vorrei farlo durare un pochino di più questo che poi fatto questa specie di fiore troppo carini questi stampini quella prima volta che li uso mi piace veramente ora che bello questo qua e vede vedete queste righe questa è colpa dello stampino evidentemente infatti lo stampino alle righe vedete qui e quindi ha rovinato ma non importa sono cose per me quindi guarda che bello questo qua questo è meraviglioso vediamo questo questo ci ho messo oltre che i glitter devo aver messo qualche goccetta di qualcosa sì ho messo le stelline per fare tono su tono e dare praticamente un po di colore ma guardate che bello bellissimo bellissimo poi spero che sia uscita perché questa un attimo mi ha fatto un pazzi ieri con lo stuzzicadenti sono andata a riempire i vuoti questa poi non vi dico un delirio meravigliosa meravigliosa bellissimo questo qui appositamente per giulia perché ha detto mamma sembra una pozione di harry potter quindi ha scelto il colore dorata per fare la felix felici se guardate che bello mamma mia oh ma bello davvero poi questa bella mamma mia che spettacolo uno spettacolo uno spettacolo ma che sto diventata un po brava no vabbè quando fai queste cose sì ma le sa fa tutte dopo quando ci devi mettere le figure in mezzo insomma non tutti riesco io non ce la faccio non sempre per lo meno il cuore in amore il cuore in amore adesso vediamo questa l'ultima con lo stuzzicadenti mettevo qui il liquido e poi con lo stuzzicadenti spostavo in giù ma è stata una tragedia vediamo un po io spero che non mi si rompa non dovrebbe perché comunque oh che spettacolo bellissimo wow bella avrei dovuto diciamo mescolarla un po di più perché vedete ha lasciato proprio si è separato si è separato la trasparenza col glitter ma non importa è riuscito lo stesso perché comunque questa cosa è stupenda bellissimo i miei glitte è Ciao!